Se dici... Il video finisce No, 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 no No, siete folli Non si può Siete folli? Come? Come dovrei? Un modo? Un consiglio? Perché non si può Provo, io provo Però perdo Su Su, su, su Certo, certo Certo Lurido No, no, ma... No, no, ma... No, ma... No, no... No, ma...